...dalle regioni che potrebbero essere bloccate o cosa succederà? Bisogna bloccarle, vi dico solo che il Veneto ha la più grande industria che è rappresentata dal turismo, 17 miliardi di fatturato. Cosa andiamo a dire in giro per il mondo? Che l'Italia è scenario di trivelazioni nelle parti più belle del suo territorio, penso a Pantelleria, le Tremiti e l'Adriatico. Non esiste, noi siamo contro le trivelazioni senza se e senza ma. E sull'Alto Adriatico che succederà con la Croazia che vuole andare avanti? Beh, anche qui si vede...